Il Vaticano condividevano l'ideologia sponsorizzata e patrocinata dal Vaticano di una cura di austerità, povertà, imposta al popolo italiano. Proprio come Mitterrand, costoro volevano ricreare una nuova specie di italiani. François Mitterrand diceva che odia i francesi per come sono oggi e questi politici avevano la stessa opinione dei loro connazionali.